il mio tradizionale ben trovato al pubblico di blog sicilia per questo appuntamento con talk sicilia continuiamo quello che è il nostro giro fra gli assessori del comune di palermo di una giunta che si è iniziata ormai da qualche mese l'abbiamo chiamato palermo verso il suo futuro perché come vi dico sempre all'inizio di queste trasmissioni vogliamo raccontare quella che è la visione della città di questa giunta visione non soltanto di domani ma in prospettiva oggi è il nostro carità ospite sabrina figuccia assessore alle attività sportive ma non soltanto con lei parleremo quindi di tutto ciò che riguarda lo sport le politiche giovanili perché sono legate nella stessa delega e per intervistare l'assessore figuccia con me questa volta c'è edoardo ullo che segue il collega che segue lo sport è quello che sono le attrezzature sportive per blog sicilia e dunque partiamo subito da un argomento che è la nota dolente abbiamo lo titolato in più di una occasione palermo non è una città per lo sport palermo non vuole lo sport in realtà palermo sport lo vorrebbe ma non è attrezzata o meglio ha le attrezzature devastate buonasera a tutti grazie per il vostro invito mi fa davvero piacere e anche se purtroppo mi invitate a partire alla quella che è la nota dolente del tra le delega del mio assessorato purtroppo noi siamo chiamati a sollecitarvi sulle cose che non vanno perché quelle che vanno vanno accetto e accoggo assolutamente in maniera favorevole la vostra spinta perché comprendo che si tratta proprio di questo a parlare del tema più delicato tra quello che è afferente appunto alle mie delega ossia gli impianti sportivi gli impianti sportivi della città di palermo sono 16 complessivamente purtroppo già aperti non sono tutti ma ve ne sono soltanto 7 ovviamente abbiamo due palazzetti importanti sono il palauditore e il palaoreto che diciamo si occupano prevalentemente di basket e di pallavolo entrambi devo dire con grandi sacrifici e con grande fatica ma oggi accoggono squadre importanti anche in terribi perché palermo lo diceva poc'anzi proprio lei ha davvero una grandissima fame di sport nonostante le diffiche un sacco incontra quotidianamente abbiamo poi lo stadio delle palme che sicuramente racconta sport in qualche modo minori ma che mettono insieme tantissime energie positive a partire dall'atletica proprio domenica mattina ci sarà a palermo la maratona la sua 27esima edizione che mette insieme sempre tornando a quelle che sono le attribuzioni delle mie delega un tema importante legato appunto a come lo sport e gli eventi sportivi in particolare possono essere volano anche di rilancio turistico la maratona infatti trova tra i suoi partecipanti tantissimi atleti che provengono da città da tutte le città del mondo e così accade per tantissime altre iniziative è sicuramente così ma il grande tema quello su cui noi vi sollecitiamo evidentemente sono quelle strutture che non funzionano a cominciare dal palazzetto dello sport che è chiuso ormai da troppo tempo che è stato devastato ed è veramente ci siamo recati insieme con l'assessore peraltro a visionare la situazione del palazzetto abbiamo realizzato un servizio ma non è soltanto il palazzetto dello sport c'è il diamante c'è il velodrome c'è tante strutture che potrebbero dare veramente respiro alla fame di sport di questa città raccolgo l'invito a parlare proprio delle criticità della città appunto il palazzetto dello sport che abbiamo potuto vedere anche insieme ero già stata presso la struttura e diciamo ho fatto un'analisi uno studio rispetto all'attuale situazione che vede un lavoro effettuato per circa 3 milioni di euro a valere su fondi estracomunali naturalmente per quanto riguarda il rifacimento del tetto dell'impianto che era stato oggetto di una chiamiamolo errore di progettazione e quindi di un gravissimo diciamo incidente che aveva visto scoperchiare completamente il tetto e che oggi superata questa prima fase di progettazione vede una disponibilità economica sempre a valere da fondi estracomunali che verranno gestiti dal coni di circa 8 milioni che oggi sono fermi a palo a causa di una serie di questioni burocratiche che non sto qua ad analizzare ma che sembrano oggi essere assolutamente superate nei termini di avvio di un nuovo iter burocratico che ritengo nell'arco di un paio d'anni darà nuovamente la luce a questo importante impianto quindi speriamo dentro due anni di poter vedere riaperto il palazzetto dello sport utilizzato per lo sport e per tanti altri ostri come concerti ci sono stati l'ultimo fu un concerto due settimane prima di quando ci fu la scoprecchiatura del tetto esattamente e a questo mi aggancio per parlare anche del velodromo struttura che mi ha visto diciamo organizzare o perlomeno diciamo prendere il testimone di un evento organizzato dalla precedente amministrazione con il concerto di De Gregori proprio al velodromo quest'estate naturalmente i lavori non erano ancora terminati ma con uno sforzo devo dire sovrumano siamo riusciti comunque a riaprirlo seppur temporaneamente oggi la sfida è aprirlo anche allo sport qualche settimana fa sono state in sopralluogo anche al velodromo questa volta non in vostra compagnia e lì siamo in una fase assolutamente avanzata di stato dei lavori quindi è stato posizionato il tappetino sabbioso l'ultimo strato più sottile di tappetino sabbioso verrà adesso posizionato nei prossimi giorni dalla ditta che ha avuto l'appalto dei lavori il tappetino erboso chiaramente sintetico sono state collocate le camicie che vengono affondate nel terreno per il collocamento delle porte per fare rugby, baseball e calcio all'interno della struttura e chiaramente stiamo facendo una valutazione insieme alla federazione che si occupa del ciclismo per valutare se così come era stato concepito l'impianto anche che si chiama velodromo è ancora compatibile con il ciclismo del resto si tratta di un velodromo ma parallelamente non dimentichiamo che impianti come il velodromo, come il palazzetto, come lo stadio nella prova il concerto di Pasco Rossi che si terrà a giugno possono e devono essere utilizzati anche per iniziative di tipo culturale, sociale, convegni, eventi più un impianto sportivo è vissuto e meno sono le probabilità che possa essere oggetto di atti vandalici o di atti di questo genere che certamente non qualificano l'impianto a proposito di sport e grandi eventi come ha giustamente anticipato lei a giugno prossimo ci sarà il concerto di Pasco Rossi al Barbera che riapra i grandi concerti in ospitati, tanti storici tra cui quello di Duranduran e altri gruppi famosi ma Palermo, l'Italia è candidato ufficialmente per ospitare gli europei del 2032 fra dieci anni, Dio piacendo, lo stadio avrà cento anni ecco da allora, cioè da qua ad allora cosa si farà? cosa si farà? perché lo stadio ha oggettivamente bisogno dei suoi ritocchi ma non ritocchi, non un semplice macchigliaggio ma proprio strutturalmente ha bisogno di interventi tali perché se piove un po' comunque ci sono piove anche in tribuna stampa e non nel massimo sono condizioni un po' strane ha bisogno del suo intervento immagino me ne siete accorti proprio perché la difficoltà di cui le parla sono proprio in tribuna stampa quindi non a caso, l'abbiamo fatta apposta la cosa comica è che ad esempio in partita dove non piove ma era piovuto prima fuori non piove ma dentro sì quindi da Lattis per parlare di un tema importantissimo la programmazione questa sconosciuta è mai per l'amministrazione di Palermo ad oggi non vuole dirlo ma è un dato di fatto gli unici fondi che abbiamo trovato programmati dalla precedente amministrazione sono stati quelli del PNR il PNRR in relazione alla piscina comunale sulla quale c'è un importantissimo investimento sono 11 milioni sono divisi in due cluster rispettivamente di 5 e 6 milioni nulla abbiamo trovato per quanto riguarda lo stadio Renzo Barbera e quindi ci stiamo faticosamente affannando nella ricerca di risorse economiche che siano a valere del PNRR del POMETRO del POMETRO PLUS del REACTU certamente tantissime sono le risorse economiche che oggi è destinata al mondo dello sport ancor più che al mondo del turismo devo dire la verità proprio mercoledì avrò occasione di incontrare il nuovo ministro a Bergamo in occasione dell'assemblea del Lanci dove ci sarà un focus proprio dedicato allo sport e certamente il ministro Bodi che è uomo di sport e tecnico dello sport avrà, sono certa, una grandissima sensibilità rispetto ai temi dello sport e rispetto alle città come la nostra che è la quinta città d'Italia ma sconta davvero troppi anni di incuria, diciamo di distrazione di mancata manutenzione ordinaria che oggi causa necessariamente quella che deve purtroppo essere definita manutenzione straordinaria e che necessita di interventi davvero strutturali impegnativi da tutti i punti di vista economico senz'altro ma ancor più direi dal punto di vista del percorso burocratico che la programmazione, la progettazione e poi l'esecuzione dei lavori vedono anche a causa di una carenza ormai organica di personale comunale che possa concretamente seguire i lavori per questo stiamo valutando con l'amministrazione ne parlavamo proprio stamattina in giunta con il sindaco, la possibilità di stipulare convenzioni con tutti quegli istituti che a vario titolo hanno all'interno del loro staff del loro organico figure professionali compatibili per esempio con il RUP, con i progettisti che purtroppo ahimè a causa dei tantissimi pensionamenti che ci sono stati a Comune di Palermo non abbiamo più all'interno della nostra macchina se non il numero veramente ridottissimo ecco lei ha accennato poc'anzi alla piscina comunale la piscina comunale è un altro di quelli che potrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della città di Palermo perché è a dimensioni olimpiche però manca di tante cose, troppe cose a cominciare dal Pontone che poi è quello che seguirebbe per le gare è una struttura che non tutti conosceranno ma gli sportivi sicuramente sanno di cosa stiamo parlando è quello che di fatto divide in corsie in buona sostanza per poter fare gareggiare ma la piscina comunale ha anche vissuto momenti problematici con aperture e chiusure apertura e chiusure, infezioni dell'acqua e poi così decente che non si riuscivano a risolvere ahimè vive, devo purtroppo ammettere a partire dal tema del Pontone che è certamente più legato è chiaramente un tecnicismo che per una dei tiratori sostanzialmente è una struttura che consentirebbe di dividere la piscina in due micro piscine da 25 metri e quindi tra le altre cose di svolgere delle attività diciamo di tipo delle gare insomma di tipo agonistico proprio sia nei periodi invernali che nei periodi estivi questo naturalmente è un importante progetto che deve essere portato a compimento accanto ad una seria ristrutturazione dell'impianto oggi lavoriamo assolutamente a singhiozzo ma certamente in maniera come dire step by step interverremo a brevissimo con uno stanziamento un prelevato a fondo di riserva di 150 mila euro con la quale faremo i piccoli lavori necessari per poter andare avanti tamponando diciamo quella che oggi mi spiace dirlo ma è davvero un colabbrodo una struttura vecchia dove qualche settimana fa abbiamo avuto anche la presenza di legionelle ma che ogni giorno ci riserva sorprese e che solo grazie ai fondi del PNRR di una ristrutturazione complessiva riusciremo a portare a quello che è l'impianto splendido che tanti ci invidiano e che lascia a bocca aperta i tantissimi atleti che dal resto dell'Italia e del mondo quando vengono a gareggiore da noi impazziscono per la location che è unica davvero al mondo ecco prima di lasciare un'altra domanda di Edoardo Ullo però volevo entrare un attimo in questo tema ok la piscina interventi di manutenzione ordinaria per cercare di andare avanti ma quando così come ha detto per il passetto un paio di anni quando vedremo invece una soluzione non dico definitiva ma quasi beh sicuramente per avere una soluzione definitiva dovremo aspettare i lavori del PNRR che dovrebbero cominciare a partire già dal prossimo anno ma diciamo avendo la fortuna di avere fatemelo dire due piscine in una perché effettivamente noi che viviamo a Palermo dove tutto sommato è possibile allenarsi anche nella piscina scoperta quasi tutto l'anno beneficeremo della possibilità di utilizzare separatamente i due cluster di cui parlavo poc'anzi le due fasi di progetto per un periodo per la vasca interna e per un altro per la vasca esterna in modo da avere comunque sempre a disposizione una delle due vasche e quindi da non privare completamente sia gli atleti che i normali utenti della piscina di una delle due vasche insomma questi interventi immagino che interessano anche il discorso dell'agibilità della tribuna interna beh allora il tema dell'agibilità in realtà è un tema che ho già affrontato sia con il presidente della commissione tecnica di valutazione per l'agibilità che non è un'agibilità strutturale ma è un'agibilità per il pubblico spettacolo sono due cose sostanzialmente diverse quindi oggi l'impianto può funzionare regolarmente è agibile salvo avere la necessità di un'ulteriore agibilità appunto definita per il pubblico spettacolo proprio per gli eventi maggiormente significativi che prevedono una presenza massiccia di pubblico oggi purtroppo la piscina pur avendo l'agibilità strutturale non ha quella per il pubblico spettacolo è un peccato perché ad esempio mese scorso Palermo avrebbe potuto ospitare un evento internazionale importante come la seconda fase della LNK che è un equivalente per chi non conoscesse la palla a nuoto è l'equivalente della Euroleague nel calcio quindi immaginatevi voi se Palermo nel calcio non avesse ospitato le partite dell'Europa League cosa sarebbe successo quindi è un peccato sono occasioni perse al momento assolutamente lo confermo sono occasioni perse proprio per questo proprio l'altro ieri ho incontrato il Presidente della Commissione insieme ai tecnici dell'Asp per immaginare una soluzione che consenta all'amministrazione pubblica di avere un'agibilità continuativa nel tempo salvo poi prevedere la presentazione di un piano sanitario adeguato da parte delle varie federazioni delle associazioni che svolgono gli eventi all'interno della piscina da presentare direttamente e in autonomia rispetto a quello che invece sarebbe un'agibilità diciamo per tutto un arco temporale più lungo almeno annuale ma preferibilmente pluriannale in modo tale da risolvere definitivamente questa problematica che purtroppo insiste da anni non soltanto sulla piscina comunale ma su tutti gli altri impianti per la verità siamo andati a rinnovo sia per il Palamangano che per il Palauretto che per lo stadio delle Palme e quindi lì abbiamo avuto parere positivo su tutto mentre invece purtroppo sulla piscina abbiamo una piccola problematica relativamente ad Asp che stiamo comunque lavorando per risolvere su cui stiamo lavorando per risolverla per quanto riguarda invece l'annoso problema sempre delle palestre degli impianti c'è una convenzione con le palestre delle scuole ad esempio si possono utilizzare le società anche direttantistiche possono utilizzarle mi sollecita davvero su un tema che ho affrontato proprio dal primo giorno del minseriamento perché brevemente spiego come funzionava il meccanismo quando sono arrivata e sostanzialmente l'amministrazione comunale faceva un avviso rivolto a tutte le istituzioni scolastiche dotate di palestre che purtroppo rimaneva quasi in evaso a giudicare dei risultati perché lo scorso anno su 72 palestre su 72 scuole dotate di palestre solo 5 avevano aderito per problematiche di varia natura quest'anno diciamo tra i miei primi passaggi istituzionali abbiamo deciso di convocare anche insieme al sindaco il presidente dell'ufficio scolastico regionale per aprire un'interlocuzione sana con una dialettica costruttiva per fare in modo che quelle che sono le problematiche rinvenute dai dirigenti scolastici possano essere risolte concretamente dando poi la possibilità loro di utilizzare questi impianti per tutta una serie di attività sportive passando per il tramite dell'amministrazione comunale quest'anno la disponibilità dei dirigenti scolastici è stata di 30 palestre su 72 quindi un piccolo passo avanti è stato certamente fatto non è ancora siamo ancora lontani dall'obiettivo finale ma stiamo lavorando costruendo un dialogo serio costruttivo con i dirigenti scolastici che certamente avevano le loro ragioni per non concedere gli impianti perché l'anomalia sta tutta nel fatto che l'impianto che da una parte viene gestito dai dirigenti scolastici che ormai diciamolo pure sono giustamente dei piccoli imprenditori dall'altra parte è però del comune di Palermo quindi se la gestione è della scuola la manutenzione ricade sull'amministrazione comunale questa diciamo dicotomia ha certamente creato nel tempo varie fratture che è il nostro compito come amministrazione comunale cercare di risolvere concretamente attraverso un dialogo e attraverso l'individuazione di strumenti operativi concreti che passino attraverso risorse economiche se il caso anche stracomunali ecco un altro tema tra le sue idee che l'abbiamo detto all'inizio ci sono le politiche giovanili questo anche perché c'è un incrocio è inutile negarlo tra sport e politiche giovanili perché lo sport non è soltanto quello a livello agonistico quello comunque importante di cui abbiamo parlato che è rilevante è importante ma c'è anche quello diciamo così nei quartieri quello del piccolo campetto quello della piccola palestra da questo punto di vista le strutture sono poche quelle che ci sono spesso sono vandalizzate insufficienti inadeguate chiuse e da questo punto di vista cosa state facendo cosa pensate di fare? c'è tanto da fare devo sicuramente ringraziare il sindaco per la lungimiranza con cui ha scelto le idee da attribuirmi perché davvero sono tutte in sinergia l'una con l'altra se è vero infatti che lo sport attraverso i suoi tantissimi eventi diventa volano di rilancio del turismo e che dall'altra parte è anche strumento di inclusione sociale di recupero della marginalità certamente questo si aggancia con il sistema delle politiche giovanili come lei ricordava questo felpaio con il recupero di una serie di impianti situati in aree cosiddette periferiche un termine che non amo molto ma sono costretta utilizzarlo perché oggi i quartieri più lontani dal centro abitato della città vengono purtroppo considerati periferici ed effettivamente lo sono in particolare una piccola perla che a breve riapriremo è certamente la palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo ma non è tutto perché a partire da gli eventi che anche le importanti federazioni che via organizzano c'è come dire un input in termini di sensibilizzazione per fare in modo che questi non vengano organizzati soltanto nei centri abitati più importanti e classici i classici eventi a politiamo al massimo ma si spostino proprio nelle cosiddette periferie proprio sabato scorsa abbiamo organizzato uno dei primi eventi la prima tappa di 12 ore di basket l'abbiamo chiamato anche se in realtà poi abbiamo montato un vero e proprio campo polivalente in cui i ragazzi hanno potuto praticare basket per l'avvolo e arti marziali proprio a piazza San Paolo nel cuore nevralgico del quartiere di Borgo Nuovo e così pian piano faremo in tutte le altre cosiddette periferie nei progetti per esempio relegati agli eventi natalizi proprio stamattina in giunta il sindaco sensibilizzava tutti noi a prevedere un'organizzazione di eventi che non passi soltanto dal centro ma che arrivi soprattutto nei quartieri più periferici dove i più giovani hanno davvero tanto bisogno di essere coinvolti di trovare spazi per le loro necessità che non siano soltanto quelli che oggi sono disponibili in strada ma che invece devono sempre di più essere riqualificati e offrire opportunità concrete il tempo è quasi finito Edoardo una domanda secca una risposta secca perché abbiamo un minuto velocissima per quanto riguarda lo sport inclusività per quanto riguarda i diversamente abili cosa si sta pensando? tante politiche per i diversamente abili in particolare una fortissima collaborazione col CIP che a breve vedrà anche una bellissima sorpresa all'interno del Palamangano uno dei nostri impianti in cui vedremo l'opportunità di consegnare una nuova sede proprio al CIP che è l'organismo per eccellenza che si occupa dei disabili attraverso il mondo dello sport giorno 3 dicembre sarà la giornata della disabilità e proprio per questo il Palamangano apre a tutti gli eventi legati a questo mondo in una logica di inclusività in cui davvero lo sport soprattutto legato al mondo della disabilità è capace di regalare l'unico doping che mi sento oggi di potere affermare sia assolutamente positivo che è quel motivo grazie all'assessore Sabrina Figuccia grazie al collega Edoardo Ullo grazie soprattutto a voi che ci avete seguito il tempo è esaurito naturalmente come diciamo sempre come è sempre capitato in realtà torneremo a parlare di tante altre cose che non abbiamo potuto affrontare quindi torneremo a invitare l'assessore Figuccia grazie ancora per averci seguito l'appuntamento rinnovato per il prossimo Talk Sicilia arrivederci grazie a tutti Grazie per la visione!